Ciao a tutti! Allora, sono un po' cozza oggi, ma i motivi sono tanti, quindi non ve li sto negare tutti, poi devo andare a fare le sopracciglia, quindi non mi trucco perché se mi trucco vado, piango e il trucco va a puttane. Poi, secondariamente cosa? Questo video secondariamente cosa? Questo video non è per gli animalisti. Nel senso che, voi direte tag della borsa, cazzo c'entra gli animalisti. Allora, prima di tutto queste qua dietro che vedete sì, sono pellicce vere, sì, sono di mia nonna no, non le metto, non le metto più che altro, ma non perché io sia animalista e bene, questo bello, vero alla manga girl non perché io sia contro queste cose. Vi spiego, io non sono cioè, non è che sono una che dice aspettate perché sto trovando uno giusto equilibrio a questi capelli vabbè, meglio così non sono una che dice, sì, uccidete gli animali che le pellicce le voglio io assolutamente no dico che, cioè mi dispiace per gli animali però se io mi metto a combattere contro questa cosa non cambia nulla lo stesso perciò fate quello che volete che io tanto le pellicce non me le metto però, nello stesso tempo ho comprato una borsa di pelle vera perché vi spiego io ho tentato tante volte di prendere quelle stupide dei cinesi similpelle, ecopelle ma a me mi si rompono tutte a me le uniche cose che mi durano sono le scarpe in pelle vera sono le borse in pelle vera sono più resistenti sono più sono di qualità maggiore di conseguenza io le prendo ma non perché dico ah che bello c'ho le cose di pelle qualcuno è morto no perché comunque so che sono hanno una qualità maggiore di conseguenza io le prendo pace animalisti fucilatemi io non so cosa dirvi allora è una borsa così allora non so se la vedete bene però mi piace un sacco con le due cerniere le grosse molto tamarre come piacciono a me però vi spiego queste due cerniere sopra sono tutte la stessa scomparto nel senso se apro due cose mi rimane così in mezzo quindi è una cosa un po' strana però mi piace un sacco poi è capientissimo facendo un sacco di roba iniziamo perché se no non finisco più questo video visto che ho già fatto due minuti e dieci di introduzione allora vi dico che dentro la mia borsa ci sono le cose strane quando di solito quando viaggio da Bergamo a Milano ho anche l'iPad però in questo caso lo stavo usando prima ascoltando Gigi D'Alessio quindi parentesi io non è che ascolto Gigi D'Alessio perché mi piace anche perché non ascolto assolutamente le canzoni di adesso ma quando ero piccina 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 cioè piccina dalla nascita fino ai 15 anni praticamente mia mamma era ragazza madre quindi ero sempre con lei tipo migliori amiche sempre in giro e lei mi faceva sempre ascoltare tutti i giorni Gigi D'Alessio cioè potete capire come cazzo sono cresciuta io e di conseguenza adesso io le canzoni vecchie le so e mi ricordano appunto il tempo in cui mia mamma era giovane single ed era mamma micotte quindi mi piace proprio riascoltare queste cose allora dentro la mia borsa c'è un marsuppio vi spiego perché perché quando tipo io vado a ballare porto un marsuppio non porto la borsa perché io sono e alla Camilla alla Camilla che lei sa ti amo e sono un po' così free e mi porto un marsuppio solo che un giorno sono arrivata di corsa una mattina sono arrivata di corsa dopo una serata ho preso la borsa ci ho buttato dentro un marsuppio perché avevo dentro comunque documenti soldi eccetera e sono andata da mia nonna cioè sono venuta da mia nonna e di conseguenza è rimasto dentro ci sono dentro un po' di cose che mi possono servire cioè ora ora ci sono dentro caricatori del telefono una penna uno smalto dei fazzoletti e un preservativo che mi hanno regalato in discoteca no? perché io cioè nel senso giro coi preservativi usatelo però poi secondariamente cosa ho? l'agendina mia bellissima in tenera che però ragazzi io la voglio cambiare e infatti vi volevo chiedere se sapete un posto dove andare a prendere un'agenda di quelle serie proprio belle con i magari che si chiude così no? con i post-it con i cosini colorati di fianco boh volevo una cosa così poi andiamo avanti ho un mollettone che quello può sempre servire l'astuccino sentivo dei rumori l'astuccino di Peppa con dentro tutte le mie penne e robe varie pacchetti fazzoletti un lucidabbra quello che vi ho fatto vedere del regalo di Natale un mollettoncino c'è tutta roba sparsa così io non ho la borsa ordinata salviettino umidificate rigorosamente di Hello Kitty che sono quasi finite poi chiavi della macchina poi 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 l'iPod perché quando non mi va la musica nel telefono ascolto l'iPod questo stupendo specchietto di Hello Kitty che per questo è proprio da Gabber vi spiego anche perché dentro c'è la spazzolina per la frangia sto male troppo bello ok il pettinino non la spazzolina poi questo diciamo astuccino zebrato dove metto tutti i trucchi giuro sono cattiva non ve lo apro però qua esplode cioè esplode non so se si vede che sta esplodendo perciò non lo posso aprire per farvi vedere però c'è dentro rossetti eyeliner matita correttore niente di particolare poi dei kinder perché me li ha regalati mio zio ieri siccome lui ritira le cose dai supermercati quelle che non tra virgolette scartano i supermercati lui mi fa guarda scadono a maggio però loro li hanno scartati perché ci sono le immagini di Natale sopra e allora io me li sono messi in borsa così ogni tanto tec ci vado di kinder poi ora iniziamo con allora questo astuccino bellissimo con il pipottino sopra vi avevo fatto vedere in un hall lontanissimo e dentro guardate cos'ho vabbè il cavo per caricare il telefono e questo per la macchina fantastico con l'usb che carica il telefono però è bello perché è fucsia poi il portafoglio fucsia rigorosamente normalissimo dritto con la cerniera rotta perché sono un po' pazza poi bepanthenol bepanthenol perché mi serve mi serve sempre cioè io adesso inizio con le medicine ve lo dico poi imodium per la diarrea perché praticamente chi di voi non soffre di diarrea cioè nel senso a me capita che mi ve lo schittone se io chiamo diarrea schittone e quindi io devo averlo sempre perché mettete che sono in giro con i miei fra e mi scappa da cagare io c'ho l'imodium cioè ma da cagare serio non poi zerino al gola perché sì anche la gola non si sa mai poi dei cerotti di yellow kitty perché se cado poi un howling no anzi due howling perché sì perché se mi fa male la testa un digestivo perché se cioè sono un po' ipocondriaca quindi io devo avere tutto e infine buscofenact che io le mestruazioni a me mi fa morire infatti devono arrivarmi c'ho paurissima poi andiamo avanti assorbenti dentro al portaassorbenti di dov'è? nuvegna calfiocchetta poi 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 cuffie per ipod cellulare eccetera chiavi di casa con rigorosamente yellow kitty giallo e mattacchiorso del degli orsi del cuore dei orsetti del cuore poi ho un pacchetto di cicche un paio di orecchini che avrete visto sicuramente in qualche foto e poi delle caramelline che mi aveva dato mia zia che vabbè e infine la tracolla della borsa che però non uso molto perché mi piace tenerla così beh questo era tutto quello che c'è nella mia borsa tutta una cosa cioè proprio assurda perché io metto proprio di tutto nella borsa vi dico dal marsupio quindi rendetevi conto poi una cosa vi volevo dire sono stata mega contenta giuro troppo che vi sia piaciuta la mia tortina sono contenta vorrei farvi il video ma devo ancora trovare la posizione per il per il telefono poi vi volevo dire allora ho visto cioè io da Cheryl Pandemonium vedo guardo sempre il suo video della domenica in cui risponde alle domande assurde e lo vorrei fare anch'io troppo cioè a me piacerebbe troppo rispondere a delle domande assurdissime se non sapete che video sia andate a vedere Cheryl Pandemonium e guardate i suoi video della domenica che io adoro assolutamente poi infatti quindi facciamo così qui sotto mi lasciate le domande assurde anzi lasciatemi tutte e due mi lasciate qua sotto domande assurde e i saluti perché io adesso sto mettendo insieme tutti i nomi delle ragazze di voi stupende stupendi che volete essere salutati perché io ho deciso di fare dei video proprio in cui vi saluto cioè nel senso parlo di qualcosa però vi saluto adesso non ho ancora troppi nomi quindi voglio cioè ne avevano una decina quindi voglio proprio averne un bel gruppo in cui inizio a salutare tutti perché se no se in ogni video saluto una persona le altre persone mi dicono però te l'avevo chiesto anch'io di conseguenza per non fare torto a nessuno faccio questa cosa perciò adesso io vado a preparare il tavolo perché è ora vi saluto e vi amo tutti ciao grazie a tutti